Si è tenuto giovedì 16 gennaio presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli la festa della produzione cinematografica agropolese più longeva della città, l'Asso Cinema Agropoli. 34 anni di attività cinematografica su tutto il territorio cilentano, l'Associazione Culturale Agropolese nacque nel 1986 per la divulgazione e la produzione di documentari su Agropoli e il di film e corti amatoriali. Erano presenti alla manifestazione il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il presidente dell'Associazione Domenico Avenia, il fondatore Vincenzo Pepe e il presidente del Festival del Cinema di Salerno Mario De Cesare. La serata presentata da Raffaella Giaccio, direttrice responsabile di Cilento Channel, ha avuto inizio con la proiezione di un filmato documentario che raccoglie le attività svolte dall'Associazione durante i 34 anni. A seguire ha preso la parola il presidente Domenico Avenia, Mario De Cesare, Vincenzo Pepe e il sindaco Adamo Coppola. In conclusione è stato proiettato l'ultimo film dell'Asso Cinema, Tramonto Amaro, nato da un'idea del presidente dell'Asso Cinema, Mimì Avenia, che lo ha anche diretto, sceneggiato e scritto con la poetessa Anna Santosgrò, direttrice della scuola di teatro Ennio Balbo. L'associazione fu fondata dall'attuale presidente Mimì Avenia insieme a Vincenzo Pepe ed Ignazio Rossi, nell'anno più difficile per il cinema agropolese. Grazie alla capacità di aggregazione, allo spirito di iniziativa, all'amore per la settima arte del presidente Avenia, l'associazione ha realizzato circa 30 cortometraggi e 10 documentari e ne sono stati associati personaggi come Gianni Petrizzo, regista cilentano che grazie al suo ultimo film, Il maestro più Margherita, ha ottenuto 10 riconoscimenti e premi a livello internazionale. Giulio Mainenti, regista programmista di Porta a Porta, Attilio Rossi, autore di numerose opere cinematografiche e gli attori Pierluigi Orio ed Enrico Giuliano.